basta ma allora siamo qua sei venuto a casa mia dobbiamo studiare e quando si mangia che c'è ma tu metti sempre al cibo nel mila ma lo smetti di usare tiktok dobbiamo studiare è un animale guarda nel 1900 quando si mangia ma ancora e poi nel 1900 si si sono proprio e poi è arrivata la pizza è arrivata la pizza comunque l'ho preso solo per me però vabbè comunque vogliamo parlare di quella falsa è Federica Federica è un parente di Ludovica Ludovica appena mi giro iniziano a spararmi no io mi giro e mi tiro i capelli ma tutto bene meno male che noi non siamo come loro noi non spariamo mai delle altre persone c'è veramente oh ma si mangia ho detto quando è che si mangia